Cari amici, bentornati per l'analisi delle partite del terzo turno del torneo dei candidati. Allora, secondo me la partita più interessante è stata sicuramente quella tra i due indiani Vidit e Pragananda. Vidit veniva dalla vittoria ieri contro Nagamura, mentre Pragananda ieri era stato sconfitto, quindi il loro incontro di quest'oggi era particolarmente interessante. Vediamo com'è andata. Vidit giocava di bianco, ha iniziato con E4 e la partita si è rivolta rapidamente verso una spagnola. A questo punto, però, dopo alfiere a E4, Pragananda ha sorpreso il suo avversario giocando la variante F5, che è una variante un po' rara agli alti livelli, è una sorta di Schliemann ritardata. La variante Schliemann, propriamente detta, è quella in cui il nero spinge in F5 senza prima spingere in A6, invece nella variante che stiamo vedendo, prima spinge in A6 e poi spinge in F5. Il bianco, vedete, dopo una breve riflessione, ha continuato con D4 andando ad aprire il gioco. Perché non D3, che invece è la variante considerata nella Schliemann, propriamente detta? Allora, andiamo un attimo a indagare, perché la cosa, secondo me, è molto interessante. Nel senso, dopo alfiere B5, se il nero gioca F5, qui il bianco può giocare favorevolmente D3 per andare a, diciamo, proteggere il pedone in E4. Il nero, tipicamente, prende in E4, gioca a cavallo F6, attaccando il pedone in E4. Il bianco, al momento, non se ne preoccupa, gioca all'arrocco corto, naturalmente il nero non può andare a prendere il pedone perché l'apertura della colonna E sarebbe fatale. Quindi il nero protegge il pedone E5 con la mossa D6. Il bianco completa lo sviluppo con cavallo C3, alfiere E7, il nero fa altrettanto. Qui il nero sta per arroccare, ma arriva il punto. Il bianco, naturalmente, approfitta del fatto che il nero ha indebolito la lunga diagonale giocando F5 e gioca alfiere C4, ritirando l'alfiere. Il nero deve, in qualche modo, eliminare l'alfiere dalla lunga diagonale e può farlo giocando cavallo A5. È vero che in questo modo lo elimina momentaneamente. Il bianco può giocare alfiere D3 o alfiere B5, però appunto non riesce a eliminarlo stabilmente. L'alfiere, in qualche modo, riesce a rimanere in partita e quindi potrà far sentire la sua presenza, poi, sulla lunga diagonale nel corso della partita. La stessa cosa, invece, non funziona se il bianco gioca D3 nella variante che abbiamo visto, in cui il nero ha già giocato A6 e ha costretto il bianco a ritirarsi con alfiere A4. Perché? Perché in questa posizione, invece di essere in B5, l'alfiere è già in A4, quindi se a questo punto il bianco vuole portare l'alfiere sulla lunga diagonale, deve giocare alfiere B3. Ma a questo punto il nero può giocare cavallo A5 e il bianco non ha più l'alfiere in C4, come abbiamo visto, dove può, in qualche modo, salvarsi. Il alfiere è bloccato in B3 e il nero ha tempo di andarlo a catturare. Questa piccola ma sostanziale differenza fa sì che in questa posizione il bianco non vada a giocare D3, come invece farebbe se il nero non avesse giocato ancora A6, ma va a giocare D4. Allora vi potreste fare la domanda contraria. Cioè, perché allora nella variante Schliemann, propriamente detta, quella in cui il nero gioca F5 subito, il bianco qui non può andare a giocare D4. La differenza anche qui è importante. Se qui il bianco va a giocare D4, allora il nero può prendere D4, il bianco va a prendere D5 e qui arriva il punto. Dopo cavallo prende D5, D per E5, la presenza dell'alfiere in B5 permette al nero di giocare C6 con guadagno di tempo. E dopo che l'alfiere si è mosso, allora il nero può giocare donna A5 scacco e andare a catturare il pedone in E5. Questa stessa variante non funziona naturalmente se il nero ha già giocato A6 e ha fatto spostare il bianco, quindi dalla casa B5, perché adesso, dopo un eventuale F4, cavallo prende D5, se il nero ha da prendere D5, a questo punto non ha più la mossa C6 con guadagno di tempo sull'alfiere che gli permetterebbe di far uscire la donna. Bene, questa piccola parentesi, diciamo, di teoria delle aperture ci fa capire però la finezza della variante scelta da Pragananda, che gioca quindi D4, il Vidit quindi risponde con D4 e Pragananda prende in D4. Qui la mossa importante, giocata teorica, giocata da Vidit, è la mossa E5, cioè il bianco al momento non intende recuperare, catturare nessuno dei due pedoni, va a occupare il centro e rende naturalmente per il nero difficile completare lo sviluppo con D6 o con cavallo F6. Il nero gioca B5, caccia via l'alfiere e poi, attenzione, qui arriva la novità teorica di Pragananda, cioè ci si potrebbe chiedere, questa variante fino adesso sembra decente per il nero. Perché non è stata giocata più frequentemente? Perché? Perché il nero tipicamente in questa posizione andava a continuare con alfiere B7 e questo permetteva al bianco di impiantare un sacrificio di pedone tipico di queste strutture, ovvero quello che inizia con C3 e se qui il nero andasse a prendere C3 dopo cavallo C3 ecco qua che l'apertura della diagonale e il dominio della casa D5 da parte del bianco gli darebbe un grande vantaggio. Ad esempio, se qui il nero andasse a giocare cavallo A5 sempre con l'idea di catturare questo benedetto alfiere Campochiaro il bianco potrebbe persino pensare di cedere l'alfiere Campochiaro per il cavallo in G8 una mossa che normalmente insomma non si fa, non è da prendere in considerazione ma in questo caso specifico il cavallo in D5 salterebbe e dominerebbe la situazione e se il nero provasse a cacciarlo via non so con C6 allora alfiere G5 andando ad attaccare la donna la donna si muove il cavallo entra in B6 e va a guadagnare la qualità questo per far capire una possibile linea di gioco oltretutto qui il bianco può anche giocare immediatamente A4 in modo da essere pronto a rispondere a cavallo A5 ritirandolo alfiere in A2 e mantenendolo sulla lunga diagonale. Proprio per questo motivo quindi che cosa fa Praga Nanda? Introduce una novità teorica sostanzialmente a questi livelli una mossa ovviamente che è stata giocata in una delle tante partite online di livello magistrale ma non era mai stata elaborata a questi livelli ovvero gioca a cavallo A5 andando subito ad attaccare l'alfiere non dando tempo quindi al bianco né di giocare C3 né di giocare A4 è una mossa rischiosa che in qualche modo dà al bianco un certo vantaggio in parecchie varianti ma è proprio questo il senso della teoria delle aperture moderne non si cerca più la variante vincente o quella che pareggia nel modo più sicuro ma si cerca una variante magari sottovalutata in cui introdurre un nuovo concetto e grazie a questo concetto mettere l'avversario davanti a dei problemi da risolvere e qui in effetti vi dite se è ritrovato con dei bei problemi da risolvere perché? perché adesso non ha più senso giocare C3 perché naturalmente il nero prenderebbe in B3 quindi la mossa C3 non costituisce più un vero e proprio sacrificio di pedone il nero fa in tempo a catturare l'alfiere e va a stare bene il bianco potrebbe semplicemente arroccare questo è vero ma dovrebbe essere appunto disposto ad accedere sempre l'alfiere in B3 il bianco cosa potrebbe fare? potrebbe cercare di salvare l'alfiere in B3 andandolo a mettere in D5 aspettando che il nero giochi C6 ovviamente tipica reazione a questo punto tornare all'idea che abbiamo visto prima cioè andare a prendere in G8 e poi dopo catturare naturalmente il pedone D4 ad esempio con il cavallo questo è un concetto estremo che come dire naturalmente priva il nero dell'arrocco corto dato che la torre sia già mossa però priva anche il bianco di questo prezioso alfiere alfiere che comunque ha la vita appunto segnata nella variante che stiamo vedendo oppure il bianco può decidere semplicemente di ignorare il problema dell'alfiere e andare intanto a catturare il pedone in D4 con la donna ad esempio potrebbe o con il cavallo Vidit sceglie di cavallo il nero risponde con l'alfiere B7 tanto insomma l'alfiere in B3 non scappa e qui che succede di nuovo Vidit ha le prese con dei problemi cosa continuare a fare può di nuovo arroccare però attenzione che adesso qui arriva la mossa C5 che attacca il cavallo e dopo che il cavallo si muove il nero può giocare C4 andando a intrappolare l'alfiere quindi questo alfiere che comunque era già condannato dalla presenza del cavallo diventa ancora diciamo più condannato dall'avanzata del pedone qui l'analisi potrebbe continuare ma insomma per far capire quali sono i problemi che sta cercando di affrontare il bianco nel momento di giocare questa posizione il bianco potrebbe semplicemente giocare cavallo C3 di nuovo nulla di male in questa mossa però naturalmente Vidit ricordiamoci che sta cercando giocando di bianco di vincerla questa partita non solo quindi cosa fa Vidit va a prendere in F5 andando a prendere questo pedone e naturalmente introducendo anche delle minacce importanti sulle case chiare il nero quindi Pragananda va a prendere in B3 e poi gioca diciamo l'unica mossa che in questa posizione lo salva perché naturalmente è una mossa in cui il nero sta correndo dei grandi rischi tanto per far capire quali sono i grandi rischi in una partita di livello magistrale giocata in passato è stato giocato G6 attaccando il cavallo ma il cavallo non è veramente attaccato perché il bianco può tranquillamente arroccare e il nero naturalmente non può andare a prendere il cavallo in F5 perché subirebbe uno scacco fatale di donna dovrebbe mettere il suo re in E7 e poi dopo con alfiere G5 andrebbe a perdere la donna quindi questo per capire che il nero si sta muovendo su un terreno molto insidioso e cosa fa infatti Pragananda naturalmente forte della sua preparazione teorica dopo aver ricontrollato le sue analisi in partita va a giocare D6 qual è l'idea di D6 sembra abbastanza scelerata questa mossa come dire il nero è già in arretratezza di sviluppo sta correndo dei rischi e come fa va a aprire ulteriormente il gioco l'idea è che dopo la presa in D6 il nero non va a ricatturare in D6 in alcun modo ma gioca la sorprendente mossa donna D7 preparando la rocco lungo e attaccando il cavallo in F5 che non ha un modo semplice per essere protetto l'idea diciamo donna D7 è la mossa più precisa con la stessa idea ci poteva essere donna F6 attaccando sempre il cavallo ma questo avrebbe permesso al bianco di spingere in D7 è vero che il pedone non può ancora andare in D8 però questo avrebbe intanto costretto il nero a perdere il diritto all'arrocco quindi dopo E per D6 c'è appunto pronta da parte di Pragananda la mossa sorprendente donna D7 e se il bianco andasse a dare scacco quindi impedendo al nero di andare ad arroccare lungo sorprendentemente il nero andrebbe comunque a stare bene giocando la mossa Re F7 quindi lasciando il nero il re apparentemente esposto ma ricordiamoci che c'è sempre la donna che sta attaccando il cavallo se il cavallo si muove il nero può andare a prendere il pedone in D6 e intanto ha introdotto anche con Re F7 la minaccia di portare la torre in E8 proprio per questo motivo quindi le analisi dei commentatori si sono rapidamente concentrate invece su un'altra variante di disposizione del bianco che prevede il fatto di ignorare semplicemente il pedone e andare ad arroccare corto qual è l'idea è che adesso naturalmente il nero di nuovo sta camminando insomma su una linea molto sottile di difesa adesso donna D7 non va più bene perché il bianco potrebbe giocare E6 che è uno pseudo sacrificio di pedone naturalmente il pedone non può essere catturato perché dopo torre E1 il nero perderebbe la donna stessa cosa non va ancora bene G6 perché il bianco ora può andare a prendere in D6 naturalmente andando ad aprire il gioco ora che il suo re si è messo al sicuro e di nuovo il cavallo non può essere preso perché donna H5 sarebbe fatale e quindi sorprendentemente dopo l'arrocco corto sarebbe il nero a dover giocare la mossa D per E5 qui apparentemente il bianco ha buon gioco entrando in questo finale dopo torre E1 il pedone in E4 sembra condannato ma sorprendentemente il nero si difende ancora una volta con la mossa re F7 l'idea naturalmente è che adesso il pedone non può essere catturato perché torre D1 darebbe il matto sull'ultima traversa e una volta rimosso il re dalla colonna diciamo incriminata il nero ha tutto il tempo poi di completare il suo sviluppo cacciare via il cavallo appunto estrarre l'alfiere campo scuro e completare lo sviluppo e andare anche a stare bene i vari commentatori hanno provato anche ad evitare il cambio delle donne in questa posizione giocando una mossa come donna G4 che però si espone all'immediato contro gioco cavallo F6 attaccando la donna è vero che il bianco può prendere in G7 due volte ma dopo torre G8 l'attacco naturalmente su G2 gli sarebbe fatale quindi insomma arrocco corto sarebbe stata comunque l'opzione migliore diciamo dal punto di vista oggettivo ma vi dite non era ancora pronto a rassegnarsi a un finale con vantaggio minimo e quindi ha giocato donna E2 apparentemente diciamo migliorando rispetto a quello che abbiamo visto perché ora la presa in E5 non è più possibile perché a differenza insomma di quando il bianco avesse arroccato corto ora il bianco avendo la donna in E2 può andare a catturare in E5 con scacco tutto sommato il nero potrebbe anche difendersi in questa variante giocando cavallo E7 e su alfiere G5 diciamo cambiando le donne con donna D5 ora però diciamo questo finale sarebbe in effetti un pochino più vantaggioso di quello che abbiamo visto perché qui il nero può sempre giocare Rf7 però insomma qui il bianco ha sicuramente un gioco più libero qui ad esempio il bianco può già giocare C4 andare ad attaccare il cavallo giocare torre D1 e via dicendo proprio per questo motivo dopo donna E2 Pragananda di nuovo ha trovato la mossa migliore ovvero l'immediata donna D7 qui ora il bianco può giocare E6 come abbiamo visto però dopo donna C6 il nero ha già impiantato un forte controgioco sulla lunga diagonale e chiara e il pedone in E6 per quanto molto minaccioso abbiamo ben capito insomma già da queste prime partite del torneo di candidati i pedoni così avanzati se non sono opportunamente sostenuti dai pezzi rischiano di non poter mai avanzare e di diventare poi nel lungo termine una debolezza in effetti qui il bianco avrebbe già dovuto rassegnarsi a tirare il freno a mano e giocare una mossa come F3 certo posizionalmente abbastanza bruttina però chiudendo questa diagonale per sempre mentre attenzione di nuovo i tatticismi non funzionano è stato analizzato da alcuni commentatori la variante cavallo G7 scacco seguita da donna H5 scacco e qui la mossa donna F7 sembra molto minacciosa in particolare perché la donna non può muoversi naturalmente penna il matto in D7 ma il nero si salva sciogliendo lentamente i propri pezzi con alfiere F6 e poi dopo alla mossa successiva giocando donna E8 e forzando quindi il cambio delle donne o la donna bianca insomma deve andare via quindi proprio per questo motivo insomma il bianco avrebbe dovuto o giocare F3 oppure giocare la mossa che in effetti vi dite ha giocato in partita ovvero la mossa alfiere G5 cercando in tutti i modi di fermare l'arrocco lungo del nero è chiaro che il nero in questa posizione sta pensando più all'arrocco lungo dell'arrocco corto considerando che ancora deve muovere i pezzi sull'ala di re e dopo alfiere G5 però la partita inizia a prendere diciamo è il nero a prendere le redini del gioco naturalmente donna G2 non funziona perché il bianco ora si che prenderebbe in G7 seguito da donna H5 scacco perché il re non può più scappare in D8 causa la presenza dell'alfiere quindi in F8 naturalmente prenderebbe matto quindi il pedone G2 al momento non è catturabile però dopo G6 il cavallo è costretto ad andare via cavallo E3 e il nero qui gioca secondo me un'altra mossa veramente molto fine la mossa più naturale qui sembra alfiere G7 finalmente iniziando a completare lo sviluppo e attaccando giusto che ci siamo anche il pedone in B2 qui il bianco diciamo per cercare uno spunto di gioco deve pensare alla spinta in C4 favorita anche dal fatto che il cavallo adesso in E3 controlla il pedone G2 ma prepara anche la spinta in C4 e quindi dopo l'arrocco corto il nero può anche prendere in B2 ma qui il bianco caccia via l'alfiere e poi dopo la cattura si prepara appunto alla spinta in C4 e questo gli avrebbe dato un certo spunto di gioco il nero come vedremo in partita in questo tipo di posizioni deve rispondere con B4 per cercare di mantenere chiusa la posizione perché chiaramente il suo re è ancora vulnerabile al centro e se intende arroccare lungo naturalmente non può aprire la posizione sull'ala di donna invece di giocare comunque alfiere G7 impiantando subito questo controgioco ma lasciando l'alfiere in G5 sulla fastidiosa diagonale Pragananda ha giocato la mossa H6 chiedendo al bianco dove vuole mettere l'alfiere in H4 o in F4 ecco questa è una scelta molto difficile io estintivamente dico la verità l'avrei mantenuto sulla lunga diagonale quindi avrei giocato alfiere H4 il problema è che dopo donne 4 il nero attacca l'alfiere e diciamo lo costringe in teoria quindi attacca l'alfiere in H4 e attacca il pedone in E6 quindi l'alfiere si muove e il nero cattura finalmente questo pedone in E6 che per quanto diciamo incapace di avanzare era sicuramente molto fastidioso c'era però un'idea che non è stata da quello che ho potuto vedere considerata da nessun commentatore che prevede in questa posizione il fatto di lasciare addirittura in presa l'alfiere e poi dopo giocare la sorprendente torre A6 naturalmente questa mi è stata suggerita dal computer ma il nero incredibilmente non può andare a prendere la torre in A6 con nessuno dei suoi pezzi se lo riprende di alfiere dopo donna F3 il bianco minaccia il matto e minaccia la torre in A8 invece se in A6 lo riprende di torre allora donna B5 scacco naturalmente attaccando il pedone e attaccando il re il nero interpone l'alfiere donna prende in A6 quindi cattura la torre cavallo E7 per difendere l'alfiere e qui dopo cavallo C3 il bianco è pronto diciamo a saltare in D5 alla prima buona occasione con un ottimo gioco quindi alfiere H4 sarebbe stata un'ottima idea alfiere F4 giocata invece da Vidit permetterebbe sempre al bianco al nero di giocare donna E4 però adesso oltre alla variante che abbiamo visto prima con la stessa idea di sacrificare l'alfiere ci sarebbe stata la più evidente cavallo C3 e naturalmente il nero non può prendere il alfiere perché dopo cavallo D5 naturalmente l'attacco sul donna e sulla casa C7 dove si darebbe il doppio di cavallo è fatale quindi dopo cavallo C3 la donna si può andare a catturare il pedone in E6 ma ora tutte e due colori andrebbero ad arroccare lungo con una partita enormemente complessa Pragananda vuole invece mantenere più il controllo della posizione quindi invece di giocare donna E4 gioca semplicemente cavallo E7 completando lo sviluppo il bianco abbiamo visto nello spirito della posizione deve iniziare ad aprire il gioco sulla la di donna C4 ma il nero risponde B4 e tiene tutto chiuso e qui adesso cosa deve fare il bianco? apparentemente la strategia di apertura sicuramente non ha funzionato è il momento di passare alla seconda ondata la prima di servizio per dirla in termini tennistici non ha funzionato la seconda di servizio si sa bisogna giocarla con più attenzione perché altrimenti si finisce per regalare il punto all'avversario qui il bianco potrebbe semplicemente arroccare corto oppure giocare cavallo D2 magari con l'idea cavallo F3 cavallo D4 sono manovre che richiedono naturalmente dei tempi ma il bianco ha fallito il primo assalto e dovrebbe rassegnarsi a questo non va bene tanto per dire cos'altro può fare il bianco il bianco naturalmente nei suoi sogni migliori ha il fatto di poter saltare con il cavallo in D5 che però adesso è fermamente controllato dal nero quindi per preparare cavallo D5 ad esempio un'idea che inizia a essere nell'aria è quella di giocare torre A5 e appunto con l'idea di giocare cavallo D5 per nostra sfortuna diciamo per sfortuna del bianco torre A5 fallisce subito per donna E4 che attacca i due pezzi lasciati sprotetti e quindi porta all'immediata vittoria del nero proprio per questo motivo quindi Vidit però insoddisfatto di queste lunghe manovre a cui si sarebbe dovuto rassegnare gioca una mossa più aggressiva la mossa è donna G4 qual è l'idea di questa mossa l'idea di questa mossa è che se adesso diciamo il bianco il nero voglio dire andasse semplicemente ad arroccare lungo allora il bianco potrebbe giocare immediatamente cavallo D5 con l'idea che ora cavallo prendendo D5 non è più possibile perché la presenza della donna in G4 permette di avanzare il pedone in E7 dando scacco e naturalmente andando a catturare materiale quindi questa è l'idea a disposizione del bianco nel momento in cui gioca donna G4 però naturalmente per la grananda se ne accorge e gioca una mossa veramente molto molto raffinata la mossa è donna C5 allora per essere onesti il rocco lungo sarebbe stato comunque giocabile perché dopo cavallo D5 il nero naturalmente non aveva necessità di andare a prendere in D5 avrebbe potuto giocare la mossa suggerita da Peter Leco se non ricordo male nei commenti ovvero semplicemente il re B8 togliere il re dalla lunga diagonale e rimanere tranquillamente in vantaggio anche se qui adesso il bianco avrebbe potuto finalmente giocare torre A5 la mossa che abbiamo visto prima e in caso di cavallo D5 riprendere di torre non di pedone perché dopo il pedone donna B6 avrebbe attaccato la torre cacciandola via e il nero avrebbe potuto catturare il pedone in D5 quindi dopo Rb8 che è comunque la migliore disposizione del nero torre A5 cavallo D5 donna per D5 qui diciamo naturalmente la partita sarebbe potuta continuare ancora molto a lungo dopo donna G4 invece Pragananda ha giocato la fantastica cavallo C5 qual è l'idea scusate donna C5 qual è l'idea naturalmente da una parte fermare la mossa torre A5 che abbiamo visto essere nell'aria per andare a controllare la casa D5 ora inoltre in caso che il bianco giochi cavallo D5 l'idea del nero è di riprendere non di cavallo ma di alfiere che è stato appunto appena liberato prendere di alfiere giocare donna G7 contraattaccando sulla lunga diagonale e magari arroccando corto quindi questa è la fine idea del nero nel momento di giocare la mossa a questo punto il bianco non ha potuto fare altro che arroccare alfiere G7 cavallo D2 e qui diciamo i due giocatori iniziano ad essere in qualche modo in scarsità di tempo perché nonostante sono state giocate nemmeno 20 mosse diciamo sono state mosse molto complicate che hanno chiesto grande impegno a entrambi i giocatori e qui diciamo nel momento in cui tutti i commentatori si aspettavano ormai un arrocco corto invece Pragananda ha sorpreso tutti purtroppo negativamente andando ad arroccare lungo e questo avrebbe permesso al bianco finalmente di andare ad attuare la sua strategia che abbiamo visto essere nell'aria a lungo tempo ovvero cavallo D5 perché dopo cavallo prende D5 e 7 scacco sempre nell'aria qui il nero probabilmente aveva naturalmente calcolato torre D7 quindi sottraendo la torre al pedone e chiudendo la diagonale ma qui il bianco ha una sorprendente mossa vincente proviamo a cercarla insieme ragioniamoci qualche secondo ecco la mossa vincente qui del bianco è cavallo E4 ora essere onesti anche la presa semplicemente in D5 non è male ma cavallo E4 chiude subito la partita perché perché il nero non può ritirare la donna in quanto dopo la presa in D5 seguirebbe cavallo prende in D6 scacco seguita da torre C1 e qui il nero non può contemporaneamente mantenere la torre protetta e diciamo parare lo scacco naturalmente se il re B8 qui segue torre A6 tra le altre oppure semplicemente segue torre A6 abbiamo detto e la donna non può prendere in A6 perché perderebbe la donna in D7 e la torre in D7 e il bianco qui andrebbe a promuovere e qui invece dopo cavallo E4 qui l'unica mossa che prolunga un pochino la partita è cavallo F6 andando a contraattaccare sulla donna avversaria ma dopo la presa in F6 torre 1 qui il nero non ha veramente difficoltà a impedire l'avanzata del pedone ad esempio alfiere E5 chiudendo la colonna e si scontra con torre D1 adesso naturalmente il bianco minaccia di prendere in E5 seguito dalla cattura della torre in D7 a quel punto lasciata in difesa e qui il nero è veramente a corto di mossa ad esempio donna C6 si scontra con alfiere prende in E5 seguito da torre D5 e il raddoppio sulla colonna D e la torre D7 è virtualmente perduta quindi in questa posizione cavallo D5 avrebbe portato sorprendentemente a un grande vantaggio una probabile vittoria del bianco invece Vidit ha giocato una mossa veramente sorprendente perché non nello spirito della posizione in questa posizione per lungo tempo naturalmente il nero aveva potuto giocare la mossa G5 cacciando via l'alfiere in G3 o sull'altra diagonale non l'ha mai fatto perché naturalmente giocando G5 avrebbe introdotto delle altre debolezze però a un certo punto evidentemente Vidit infastidito dal dover riflettere continuamente contro questa mossa ha deciso di giocare H4 che espone naturalmente indebolisce il lato su cui il nero probabilmente andrà ad attaccare e perde un tempo prezioso torre 8 ora naturalmente la torre si sottrae a qualunque rischio di attacco doppio quindi di avanzata del pedone E torre D1 il nero va a prendere in B2 cavallo D5 arriva lo stesso soltanto ora molto meno efficacemente il nero prende due volte in D5 il bianco gioca E7 scacco ma ora la torre si è tolta da D8 e quindi lo scacco non l'attacca più notate come sembra quasi che in questa posizione Vidit arrivi sempre una mossa tardi cioè laddove sarebbe stato possibile qui giocare cavallo D5 e l'avanzata E7 avesse attaccato la torre il fatto di aver perso questo tempo prezioso con H4 aver concesso al nero di muovere la torre da D8 in E8 ha praticamente reso tutta la strategia di Vidit estremamente meno efficace quindi un tempo in questo tipo di posizioni molto tese conta tantissimo e questo tempo davvero H4 posso dire non era nello spirito della posizione e quindi torniamo quindi alla partita E7 scacco adesso a questo punto arriva molto meno efficacemente il re si muove alfiere 3 attacca la donna ma insomma stiamo veramente raschiando un po' il fondo del barile è chiaro che ci sono ancora delle minacce è chiaro che la posizione è ancora altamente instabile però è chiaro anche che il nero ha le chance migliori donna B5 era probabilmente ancora meglio donna C6 apparentemente regalando il pedone B4 ma ora con donna B5 diciamo il nero guadagna un tempo perché la donna o viene cambiata naturalmente dando al nero un grande vantaggio oppure la donna si deve ritirare e permettere al nero di catturare in E7 con guadagno di tempo però donna B5 è molto più umana cavallo C4 andando ad attaccare il pedone l'alfiere in B2 e qui alfiere C3 è la mossa chiave della difesa io sono convinto che diciamo Vidit sperasse contasse nella ritirata alfiere G7 perché? perché in questa posizione il bianco ha una sorprendente serie di mosse tattiche che gli permetterebbero di lottare per la parità o addirittura per l'attacco pur con molto materiale in meno e la variante diciamo di cui sto parlando è quella che inizia con cavallo prende in D6 seguita da torre prende in D5 quindi un doppio sacrificio che a questo punto lascia il bianco con una torre non è te meno ma dopo torre D1 seguita da torre D6 ora qui diciamo il bianco ha veramente delle forti minacce sul re nero lasciato scoperto in particolare alfiere F4 minaccia delle forti scoperte e qui il nero può riparare la lunga diagonale con alfiere E5 ma dopo la presa in E5 seguita da torre D4 adesso si minaccia l'ingresso in B6 si minacciano entrambi le torre sulla diagonale insomma qui le cose si mettono veramente male per il nero il computer trova la parità però posso dire che nonostante la torre in meno qui il bianco ha veramente delle grandi minacce probabilmente Pragananda ha visto ha calcolato la pericolosità di questa variante e ha giocato la giusta alfiere C3 che tra le altre cose va a proteggere il pedone B4 che abbiamo visto quanto sia vulnerabile alfiere D4 cercando di rimuovere quindi questo blocco dell'alfiere C3 qui il computer diciamo i commentatori si sono concentrati sulla mossa alfiere per D4 che chiaramente è inferiore perché permette dopo torre D4 al bianco di montare delle minacce sul pedone B4 ad esempio l'immediata torre per E7 non funziona perché cavallo prende in D6 seguita da torre B4 il bianco guadagna la donna quindi alfiere per D4 comunque rischiosa anche ammettendo che il nero abbia difese migliori torre prende in E7 sembra ragionevole il bianco può andare a prendere in C3 dopo donna D4 si attacca contemporaneamente la torre e il pedone ma intanto vuol dire il nero ha ottenuto quello che voleva ovvero la rimozione del pedone in E7 che tanto lo ha addolorato nel corso di questa partita e Pragananda in partita gioca a torre G8 che con l'idea di rimuovere la torre dalla diagonale però secondo il computer era più precisa torre H7 perché perché diciamo in questa posizione il nero sarebbe potuto passare in vantaggio con una variante onestamente disumana ovvero il bianco cavallo prende in D6 sempre con l'idea di prendere in C3 e di giocare donna a G6 attaccando un po' tutto si attacca la torre si attacca il pedone D6 e qui il nero sarebbe passato in vantaggio soltanto con la mossa Alfiere prende in G2 che onestamente era veramente difficile da vedere è difficile da vederlo in questa posizione figuratevi qualche mossa prima l'idea del nero è che dopo re prende in G2 torre per E7 e il nero andrà a giocare cioè il bianco non ha modo di impedire che il nero porti una torre in G7 attaccando la donna e il re avversario quindi torre H7 sarebbe stata migliore torre G8 comunque è una mossa che mantiene del vantaggio il bianco va a prendere in C3 e qui possiamo dire che Vidit probabilmente ha perso una delle ultime occasioni di dire la sua in questa partita ovvero non ha giocato cavallo A3 che avrebbe attaccato la donna e avrebbe permesso al bianco di portare in gioco la torre qui è chiaro che il problema del bianco è che sta virtualmente giocando con una torre in meno perché la torre in F1 non sta partecipando alla lotta come fare per farla partecipare naturalmente bisogna spostare la torre in D1 e abbiamo visto come D4 sia un'ottima casa perché minaccia torre B4 dando scacco e attaccando il re avversario quindi cavallo A3 eseguita da torre D4 sarebbe stata molto efficace D4 attacca il pedone C3 ma questo pedone relativamente poco rilevante si attacca anche l'alfiere e l'alfiere si ritira in B7 vedremo poi perché sarebbe stato leggermente più preciso giocare alfiere A8 ma capisco che umanamente è alfiere B7 la mossa che viene in mente il bianco prende C3 il nero finalmente prende N7 cavallo A5 ecco l'idea va ad attaccare l'alfiere in B7 cosa che naturalmente non sarebbe stata possibile se l'alfiere fosse stato in A8 torre E5 e qui il bianco appunto avrebbe potuto e dovuto prendere in B7 seguito da torre B4 l'idea di torre E5 era avere adesso a disposizione torre B5 che oltre naturalmente a proteggere la colonna B va anche ad attaccare il pedone B3 e nonostante questo però il bianco avrebbe potuto diciamo nonostante stia in posizione leggermente inferiore trovare poi delle mosse per cavarsi d'impaccio ad esempio il computer consiglia donna C4 andando ad attaccare la torre eventualmente seguita da donna C1 andando ad attaccare l'altro pedone come dire il bianco sta un pochino raschiando il fondo del barile però questa è una posizione che con un po' di buona volontà si riesce a pattare invece naturalmente vedendo l'idea del controgioco del nero sul pedone B3 cosa ha fatto Bidit un pochino troppo ambiziosamente ha spinto il pedone in B4 ma questo ha permesso al nero di iniziare per primo il suo controgioco G5 ora si vede quanto sia stata scelerata permettetemi di dire la spinta in H4 che invece di prevenire la spinta in G5 invece finisce per invitarla perché ora la spinta in G5 comporta anche l'apertura delle colonne contro il re bianco Bidit ha cercato di mantenere chiuse le colonne con H5 quindi evitando il cambio ma arriva G4 e dopo torre 1 cercando finalmente di dare una funzione alla torre F1 rimasta fino adesso inattiva il nero ha giocato la vincente G3 l'idea naturalmente è che se il bianco prova ad evitare l'apertura della colonna G e il cambio giocando F3 dopo donna B6 scacco seguirebbe il matto sulla colonna H quindi il bianco è tornato all'idea di prima ma con parecchie mosse di svantaggio ovvero adesso è andato a catturare in B7 ma qui il nero gioca la presa in F2 come intermedia donna B7 andando anche ad attaccare fatalmente il pedone G2 qui vediamo anche le mosse finali perché sono comunque istruttive donna F3 è praticamente forzata torre G5 andando di nuovo ad attaccare il pedone G2 il bianco è costretto al cambio delle donne il nero ha già un pedone di vantaggio e soprattutto sta minacciando entrambi i pedoni qui Vidit ha giocato la disperata G4 andando a sacrificare un pedone ma puntando a controgiocare contro il pedone H6 controgioco che è finito subito perché dopo torre G5 è vero che il bianco può prendere in H6 ma dopo torre H4 il pedone H5 è virtualmente spacciato torre H7 cercando qualche controgioco il nero intanto ha preso in H5 torre D7 cercando almeno di evitare il cambio di una torre perché con due torri in gioco ci sono molte più possibilità di controgioco però qui come dire il nero ha due a due momento sani pedoni di vantaggio ma anche il pedone B4 è veramente condannato quello che deve fare il nero per chiudere la partita è semplicemente forzare il cambio di una torre quindi cosa ha fatto torre C8 per cacciare via la torre da dove si è posizionata e una volta che la torre si è esposta torre E5 di nuovo proponendo il cambio delle torri Bidit prova ad evitarlo ma dopo torre F5 il bianco adesso è costretto a portare il re sulla colonna G dove finalmente il nero andrebbe a cambiare una torre e una volta cambiata una torre sarebbe solo questione di tempo naturalmente per far valere i due pedoni che presto diventano anche tre perché il pedone B4 è condannato di vantaggio e qui quindi Bidit abbandonato una partita veramente veramente sorprendente perché come dire la mossa F5 qui non ha un grande un grande seguito una grande reputazione però come dire Paragananda introduce un concetto nuovo quello di giocare qui subito cavallo A5 invece di giocare scusate invece di giocare alfiere B7 è un concetto nuovo che naturalmente non risolve tutti i problemi del nero non è che improvvisamente questa apertura diventa l'apertura migliore a disposizione del nero però come dire costringe il bianco a cercare una strada diversa dal solito per il vantaggio e purtroppo per Vidit la strada che ha scelto lui tra le tante possibili non si è rivelata una buona strada cavallo D4 seguita da cavallo F5 ha permesso al nero di giocare la sorprendente D6 seguita da donna D7 il bianco a questo punto invece di accontentarsi di un piccolo vantaggio come avrebbe potuto se invece di donna E2 avesse giocato l'arrocco corto D5 e va bene qui diciamo si sarebbe arrivato rapidamente in un finale leggermente vantaggioso per il bianco ma probabilmente agevolmente pattabile per il nero però meglio di niente invece come dire Vidit ha provato a gettare benzina sul fuoco e purtroppo per lui a un certo punto questa benzina ha finito per bruciare i suoi danni però una partita davvero emozionante non era però questo diciamo la partita clude che ci si aspettava da questo turno in particolare perché si scontravano anche Firuja e Caruana che sono tra i due grandi favoriti di questo torneo e andiamo a vedere com'è finita tra di loro Firuja aperto E4 Caruana risposto con la siciliana cavallo C6 Firuja non ha voluto sfidare Caruana in una probabile Sveshnikov e di nuovo ha giocato alfiere B5 quindi la variante Rosso Limo cavallo F6 da parte di Caruana andando subito a contraattaccare sul pedone cavallo C3 difendendo il pedone e qui sorprendentemente Caruana ha riproposto una variante diciamo non particolarmente diciamo considerata favorevolmente dalla teoria ovvero cavallo D4 immediato qual è l'idea di cavallo D4 naturalmente il bianco non può andare a prendere in D4 perché il pedone attaccherebbe il cavallo e quindi il nero potrebbe rifarsi sul pedone E4 che rimarrebbe in presa però dopo cavallo D4 il bianco può giocare l'immediata E5 proprio per questo motivo tipicamente cavallo D4 si prepara con la mossa preventiva donna C7 che oltre diciamo a controllare la casa C6 nel caso che il bianco vada a cambiare in C6 naturalmente si prepara a giocare cavallo D4 senza permettere al bianco di giocare E5 perché adesso a questo punto se il bianco giocasse E5 il nero andrebbe a prendere in F3 e poi dopo andrebbe a prendere il pedone in E5 quindi cavallo D4 un pochino sorprendente da parte di Caruana ma anche lui naturalmente era arrivato ben preparato E5 cavallo prende in B5 e poi cavallo D5 naturalmente per sottrarsi dall'attacco del pedone qui la variante teorica diciamo più complicata inizia con una sorprendente cavallo G5 qual è l'idea del bianco l'idea del bianco è di giocare donna F3 attaccare contemporaneamente il pedone in F7 e il cavallo in D5 lasciato in presa e questa variante diciamo permette davvero il nero alle strette ad esempio A6 attaccando il cavallo non funziona appunto per donna F3 ma anche H6 non funziona per cavallo prende in F7 e di nuovo donna F3 dando scacco e attaccando il cavallo per questo motivo diciamo la variante considerata migliore della teoria per il nero prevede F6 subito attaccando il cavallo ma anche in questa posizione il bianco può giocare sempre donna F3 sempre favorito dal fatto che il cavallo in D5 non è protetto Firuja non voleva testare la preparazione di Garuana su questa variante e ha giocato una mossa più posizionale ovvero C4 cacciando via il cavallo e poi invece di catturare il cavallo in C7 possibile ha semplicemente ritirato il cavallo e chiedendo al nero che cosa stia facendo il suo cavallo in C7 che non è proprio una tipica un tipico pezzo della difesa siciliana e qui Caruana ha giocato la sorprendente mossa D5 dico sorprendente perché sinceramente mi aspettavo che giocasse D6 e non D5 perché come dire l'idea è quella che se il nero se il bianco non prendesse Anpassan cioè se dopo D5 il bianco qui non prendesse Anpassan avrebbe anche altre chance ad esempio la possibilità di giocare l'immediata D4 creando una situazione molto complessa al centro in cui però occhio e croce il bianco ne dovrebbe uscire leggermente avvantaggiato invece l'immediata D5 ha sfidato il bianco a prendere se lo vuole ora Anpassan o come dire ora o mai più Firuja ha accettato la sfida ha preso in D6 e qui la sorpresa delle sorprese qui la ripresa donna per D6 era attesa da tutti i commentatori e sinceramente era veramente molto nello spirito della posizione perché come dire il nero è ben contento di poter utilizzare questa colonna semi aperta contro il pedone D2 che è un pochino arretrato al momento il bianco può ancora spingerlo in D4 però diciamo potrebbe fare fatica se desse tempo al nero di consolidarsi sulle case scure invece qui Caruana ha giocato veramente la sorprendente E per D6 dico sorprendente perché la struttura pedonale che si viene a creare è un pochino antiposizionale diciamo a questo punto il nero deve prima o poi spingere in D5 altrimenti la sua struttura pedonale ne risulta danneggiata e anche diciamo lo sviluppo dei suoi pezzi ne risulta in qualche modo ostacolato l'alfiere cosa può fare può andare in E7 ma poi difficilmente trova una strada migliore per uscire mentre insomma donna D6 avrebbe permesso molto più dinamismo ai suoi pezzi e per D6 D4 il bianco giustamente mette subito sotto pressione la struttura del nero perché adesso il bianco dopo questa mossa avrà molte chance potrà decidere in qualunque momento di prendere in C5 di giocare D5 e il nero naturalmente non ha molta interesse invece ad andare a prendere in D4 perché andare a prendere in D4 vorrebbe dire rimanere con il pedone D6 arretrato isolato e rinunciato al suo unico pedone diciamo sulla quarta traversa quindi il pedone C5 quindi questa tensione sicuramente favorisce il bianco alfiere E7 e qui il bianco semplicemente arrocca c'erano altre possibilità possibilità che si ripresenteranno poi continuamente nel corso della partita quindi vediamola adesso con occhi diciamo nuovi e poi dopo vediamo di adattare questa valutazione a quello che seguirà nel corso della partita come detto il bianco qui può giocare D5 che però attenzione permette al nero una risposta subito in stile benco cioè una risposta che prevede la spinta in B5 il bianco cattura in B5 e qui il nero può giocare torre B8 minacciando la ricattura del pedone B5 e se il bianco prova a difenderlo con A4 allora A6 è uno pseudo sacrificio perché in verità il bianco non può permettersi di prendere in A6 perché l'alfiere campo chiaro sarebbe veramente fortissimo su questa diagonale quindi questa è una risposta in stile benco che rende la spinta in D5 del bianco prematura e pericolosa c'è anche la possibilità di prendere in D5 seguita per evitare il cambio delle donne da donna a B3 e il bianco prima o poi porterà una torre in D1 attaccando la donna ed occupando la colonna D questa variante che nel seguito poi della partita diventerà cruciale per l'analisi della posizione qui è un pochino prematura perché il nero può subito rifarsi con alfiere F6 sul cavallo in C3 che naturalmente avrebbe un grande futuro sulle case chiare ma qui se il bianco arrocca il nero può semplicemente andare a prendere in C3 e ottenere quindi una posizione del tutto soddisfacente il cavallo in C7 che fino a questo momento sembrava fuori gioco può trovare invece un grande futuro nella casa D4 dopo cavallo E6 quindi proprio per questo motivo Firuja non cerca attualmente nessun guaio e va semplicemente ad arroccare Caruana fa altrettanto qui di nuovo le mosse possibili sono sempre D5 D per C5 ma Firuja giustamente prevede prima di continuare lo sviluppo dei suoi pezzi alfiere F4 ora cosa fare al posto del nero come alcuni commentatori hanno simpaticamente sottolineato qui il nero vorrebbe avere la possibilità di giocare due mosse contemporaneamente ovvero alfiere G4 e poi cavallo E6 il problema è che giocarne una soltanto non risolve i suoi problemi cavallo E6 naturalmente imbottiglia l'alfiere che a quel punto non sarà più in grado di uscire mentre alfiere G4 ha il problema che dopo D per C5 D per C5 il bianco ora può andare a prendere in D8 perché? perché dopo torre D8 lascerebbe il cavallo in C7 in presa quindi il nero è costretto a riprendere di alfiere però questo naturalmente rende i suoi pezzi molto ingolfati le torri sono ancora nella loro casa diciamo di partenza in più il bianco semplicemente con alfiere D6 va guadagnando un pedone attaccando la torre e guadagnando il pedone in C5 non sarebbe la fine del mondo diciamo questa finale è un finale che offre al nero ancora delle chance di difesa grazie al fatto che comunque adesso la torre è attiva e il nero non dimentichiamoci ancora la coppia degli alfieri ad esempio può infliggere al momento opportuno un'impedonatura sulla colonna F al bianco però come dire sarebbe sicuramente Firucia a giocare per il punto intero quindi Caruana ha preferito giocare diciamo il minore dei due mali cavallo E6 andando ad attaccare l'alfiere qui un po' tutti i commentatori si aspettavano alfiere G3 per mantenere naturalmente l'alfiere sulla diagonale invece Firucia l'ha ritirato in E3 e Caruana l'ha ritirato di nuovo in C7 perché l'ha ritirato in C7 di nuovo per avere la possibilità di sviluppare l'alfiere e poi perché il cavallo in C7 sostiene la spinta in D5 che sarebbe naturalmente la spinta di liberazione desiderabile da parte del nero e in più in caso che il bianco giochi D5 lui stesso prepara la spinta in B5 in stile Benko come abbiamo visto qui di nuovo sarebbe stato possibile la presa in D5 seguita da donna B3 va bene ma Firucia preferisce non sciogliere la tensione e giocare H3 per impedire l'alfiere G4 qui la spinta in D5 da parte del nero sarebbe già in qualche modo possibile ma permetterebbe al bianco di giocare donna A4 attaccando il pedone e preparando l'occupazione della colonna D il nero non è pronto diciamo a contrastare l'avversario sulla colonna D e quindi preferisce sviluppare semplicemente l'alfiere con l'alfiere F5 torre 1 torre 8 e qui diciamo di nuovo D per C5 seguita da donna B3 e torre D1 appare la migliore chance a disposizione del bianco e invece Firuja gioca donna D2 che permette al nero di rispondere finalmente con D5 come vedete ci sono grandi tensioni al centro ma apparentemente il bianco non riesce a ottenere niente ce ne convinciamo diciamo andando un po' ad analizzare la situazione non è facile vederlo naturalmente a prima vista qui se il bianco prende in C5 il nero può prendere in C4 e il probabile cambio delle donne a questo punto non è più un problema per il nero che può lui stesso occupare la colonna C alfiere F4 tornando in F4 diciamo ora che il nero naturalmente non può più andare in E6 sì questa è una possibilità dopo D per C4 i commentatori si sono divertiti di analizzare la presa in C7 seguita da cavallo D5 attaccando la donna attaccando l'alfiere ma la donna diciamo il nero si difende giocando donna D7 e se il bianco prende in C5 ora cavallo E5 diciamo è stata un pochino discussa da Nande che sapete è un appassionato di cavalli e ha detto letteralmente questa è la miglior posizione possibile che insomma il bianco possa immaginare per i suoi due cavalli contro i due alfieri però anche qui il nero si difende tranquillamente il computer consiglia C3 ma Nande in partita sottolineava come dopo donna D8 il bianco farebbe bene insomma ad accontentarsi della rigatura del pedone in C4 perché altrimenti rischia di andare a stare peggio attenzione comunque il nero corre dei rischi perché ad esempio dopo cavallo D5 Irina Crash nei suoi commenti aveva inizialmente proposto donna D6 che invece perde ed è interessante vederlo perché dopo D per C5 donna per C5 il bianco ha a disposizione la mossa torre E5 che attacca l'alfiere e se l'alfiere si ritira cavallo F6 da scacco e va a guadagnare la donna quindi come dire sono comunque posizioni che il nero deve trattare con molta attenzione qui Firuja ha preso in D5 e ha permesso al nero di giocare una mossa molto diciamo interessante dal punto di vista posizionale ovvero la spinta in C4 riservandosi poi di andare a catturare in D5 al momento opportuno ecco come giustamente Ananda ha sottolineato questa è una posizione che inizia a rassomigliare in qualche modo a posizioni derivanti dalla difesa russa di cui ricorderete che Caruana è stato per lunghi anni un propugnatore un grande esperto quindi come dire la situazione iniziava a entrare nelle sue diciamo posizioni ben conosciute al fiere F4 il nero prende in D5 torre E5 andando ad attaccare contemporaneamente il cavallo e l'alfiere qui il nero ha varie mosse a disposizione per sciogliere la sua situazione una possibilità è andare a prendere in F4 che però naturalmente introduce dei rischi perché dopo donna F4 qui il nero deve come è stato sottolineato giocare l'alfiere in G6 e non in E6 perché perché il bianco potrà andare a triplicare sulla colonna E ed è molto pericoloso diciamo lasciare l'alfiere E7 come l'unico baluardo a difesa della colonna quindi dopo alfiere G6 invece qui il nero potrà al momento opportuno giocare F6 e l'alfiere in G6 collaborerà alla difesa della torre E8 però insomma questa appare una difesa molto passiva come è stato sottolineato da tutti i commentatori nel momento in cui il nero qui va a prendere in F4 deve essere molto sicuro di quello che sta facendo perché la posizione diventa un pochino instabile alfiere E6 invece è stata la mossa suggerita e favorita principalmente da Peter Leco che come è solito dire è la mossa che cementifica un pochino la posizione però Narodischi che commentava insieme a lui ha proposto giustamente la mossa alfiere G5 che minaccia naturalmente di cambiare i pezzi di portare un cavallo in G5 dove andrebbe ad attaccare l'alfiere rovinando quello che appunto sembrava invece una struttura molto ben difensiva molto ben strutturata da parte del nero in difesa qui attenzione non è stato suggerito in partita però vi faccio notare che un'eventuale mossa H6 che sembra invitare il bianco a catturare in E7 e a mettere sotto controllo la casa G5 è molto pericolosa perché il bianco può andare anche a sacrificare in H6 e in questa posizione il bianco ha una posizione vincente quindi il nero non deve prendere G per H6 e può difendersi secondo il computer soltanto con alfiere F8 insomma entriamo nel campo delle mosse disumane ora quindi nessuna di queste due mosse evidentemente era soddisfacente per Caruana che ne ha scelta una terza quella di andare a prendere in C3 con il cavallo perché qui la mossa tra virgolette naturale che sembra quella di riprendere con il pedone per andare a solidificare il pedone D4 si scontra col fatto che il nero può giocare donna D7 andando a difendere l'alfiere poi con F6 cacciare la torre e la torre inizia a essere a corto di case perché successivamente il nero andrà a giocare alfiere D3 difendendo il pedone C4 e questo alfiere insomma in D3 darà veramente molto fastidio allo schieramento del bianco proprio per questo motivo Firuja gioca donna prende in C3 ma questo permette al nero sempre la stessa idea donna D7 difendendo l'alfiere e dopo donna C4 quindi andando momentaneamente a guadagnare un pedone ma torre C8 contro gioca subito sulla colonna C il bianco propone il cambio delle donne e Caruana a questo punto lo accetta abbastanza favorimamente perché nonostante il pedone in meno la presenza della coppia degli alfieri del pedone D4 isolato rende questa posizione piuttosto facilmente pattabile da parte del nero vediamo come ha fatto Caruana perché è istruttivo alfiere 4 attacca il cavallo naturalmente difende il pedone D7 D5 cercando di chiudere la diagonale A6 il bianco può catturare il pedone B7 ma il nero cattura il pedone in D5 a questo punto diciamo la posizione si è rapidamente semplificata da parte di una torre facciamo quindi il punto della situazione il bianco ha sì un pedone in più ma naturalmente i due alfieri sono molto forti i pedoni sono molto arretrati non andranno da nessuna parte e naturalmente il nero qui ha un compito difensivo abbastanza comodo H6 per dare spazio al re e poter portare magari il re al centro attraverso la casa H7 torre 1 torre D8 la torre si attiva guardiamo Caruana con quale semplicità affronta la situazione torre D5 centralizzando la torre il bianco mette l'alfiere sulla lunga diagonale apparentemente quindi difendendo anche i suoi pedoni ma il nero non ha diciamo nessuna fretta di andare a contrastare questi pedoni semplicemente si mette in una posizione attiva e attende cavallo E5 cavallo H7 l'idea naturalmente è che se ora il nero giocasse subito F6 il bianco potrebbe giocare fastidiosamente cavallo G6 e andando ad attaccare l'alfiere e minacciando cavallo F4 quindi cosa fa il nero vuole naturalmente togliere la casa G6 al cavallo re H7 il cavallo autonomamente si ritira alfiere D7 con l'idea torre E5 torre D1 scacco torre E1 torre D5 e qui rapidamente si è arrivati alla ripetizione di mosse che il bianco non ha fatto niente per evitare dimostrando ovviamente lui stesso di capire che il suo pedone di vantaggio in questa posizione è del tutto ininfluente quindi un'altra partita molto emozionante con Caruana che si è preso apparentemente dei rischi deliberati nel momento in cui è andato a prendere in D6 però bisogna ammettere che poi ha gestito la cosa con grande presenza d'animo con grande anche originalità e tutto sommato alla fine ha messo anche all'avversario alle prese con dei problemi difficili ad esempio qui avrebbe potuto a un certo punto lasciarsi tentare appunto la spinta in D5 che avrebbe dato al nero la possibilità di controgiocare sull'ala di donna quindi tutto sommato Caruana si può dire che dal punto di vista agonistico ha fatto bene a rischiare perché comunque la partita è uscita veramente interessante e istruttiva per noi le altre due partite quella tra Abasov e Nakamura diciamo è stata interessante perché ha visto Abasov naturalmente sfavorito della vigilia con il suo punteggio ampiamente più basso e Nakamura che voleva probabilmente cercare di rifarsi dalla sconfitta di ieri ma la partita diciamo si è rapidamente dissipata in una Slava variante di cambio ora attenzione la variante di cambio notoriamente della Slava è uno dei modi più facili per pareggiare il gioco e per siglare una rapida patta però in tempi recenti come giustamente ha sottolineato Ananda anche nel suo diciamo commento in diretta è stata considerata anche una chance per ottenere del vantaggio non però come la giocata Abasov che qui ha giocato in modo molto simmetrico con cavallo F3 per corrispondenza io ho visto che alcuni giocatori le interpretano con un alfiere F4 seguito da E3 con l'idea di portare il cavallo in E2 e avere una posizione diciamo più flessibile preparando lasciando anche la possibilità di giocare F3 in E4 come un pochino si gioca nel gambetto di donna rifiutato invece dopo cavallo F3 cavallo C6 alfiere F4 qui la posizione rischia di diventare veramente ipersimmetrica Nakamura ha fatto il possibile per mantenere un pochino di vita nella posizione F6 poi ha ceduto il suo alfiere campo chiaro in F3 ma giocando C6 in qualche modo almeno avendo lo sbilanciamento di due cavalli contro due alfieri torre C1 è interessante perché qui se il bianco intende portare l'alfiere in D3 no anche perché in E2 naturalmente non avrebbe senso è già occupata la diagonale della donna però se portasse subito l'alfiere in D3 il nero potrebbe rispondere cavallo B4 e il bianco per conservare l'alfiere dovrebbe ritirarlo in B1 ma al momento la torre risulterebbe imbottigliata in A1 quindi cosa ha fatto Abbasov ha portato la torre in C1 con l'idea dopo alfiere D3 se dovrà ritirare l'alfiere in B1 non ostacolerà più lo sviluppo della torre alfiere D6 qui interessante la riflessione che ha fatto Anand nei suoi commenti ci ha detto secondo lui qui il bianco per aspirare a un vantaggio dovrebbe conservare gli alfieri campo scuro quindi non cambiarlo e non permettere al nero di cambiarlo in F4 ma giocare una mossa come alfiere G5 il computer diciamo strettamente numerico la sua valutazione non vede grandi differenze però da un punto di vista umano naturalmente mantenere la coppia degli alfieri che costituisce l'unico elemento che permette al bianco di poter cavare qualcosa da questa posizione invece Abbasov che probabilmente non aveva grandi mire ha giocato alfiere D3 ha permesso al nero di catturare in F4 e poi qui Nakamura ha semplicemente arroccato i commentatori naturalmente alla ricerca di uno spunto interessante di questa partita hanno analizzato a lungo la mossa donna a B6 con l'idea di continuare con la presa del pedone in B2 e qui sinceramente è stata un po' la caccia la vittoria del bianco perché un comportamento così giustamente Anand ha sottolineato di non provare queste cose nelle proprie partite perché sono estremamente rischiose però come diciamo dov'è il rischio osserviamolo anche noi ecco lo condivido con voi magari per chi pensa semplicemente in questa posizione di aver perso un pedone in verità il nero sta rischiando molto cavallo a4 attaccando la donna Anand ha analizzato quindi la presa di un secondo pedone dopo torre a1 con l'idea di poter rientrare attraverso la casa di 2 quindi donna di 2 per poi poter giocare donna a5 e poter finalmente riportarsi nella propria casa nel proprio schieramento guardate però quante mosse quanti rischi torre d1 donna a5 cavallo c5 andando attaccare il pedone b7 e qui il nero potrebbe sicuramente giocare donna d8 ma a questo punto perderebbe il pedone b7 e con esso ogni speranza di vantaggio quindi i commentatori si sono concentrati su donna b6 con l'idea torre b1 attaccando tutto e il nero ha cercato la protezione di salvare il tutto con cavallo b4 il computer naturalmente trova subito la confutazione di questa idea però i commentatori si sono divertiti e vorrei divertirmi un po' anche con voi in particolare il primo suggerimento che verrebbe in mente di giocare torre a4 per attaccare il cavallo due volte non funziona perché il nero si salva con cavallo d3 quindi rimuovendo il cavallo e attaccando anche la donna quindi il bianco deve giocare con più attenzione cavallo a4 attaccando la donna donna a5 unica per proteggere il cavallo e poi donna d6 questa è la mossa vincente attaccando il cavallo due volte andando a cedere l'alfiere in d3 ma giocando torre b7 andando a minacciare il matto in e7 e qui il nero può fare poco per salvarsi donna d8 mossa unica ma il bianco prima da scacco e poi dopo entra con il cavallo attaccando la torre la torre è virtualmente bloccata non può andare naturalmente in c8 non può andare in a7 può andare soltanto in b8 e qui arriva il colpo finale presa in b8 si guida torre a6 e il bianco porterà diciamo la torre in a6 andando a guadagnare la donna questo per dire naturalmente sono passate tante mosse il nero magari aveva anche altre chance di difesa però diciamo è una variante molto originale molto sorprendente per farvi capire quali sono i grandi rischi connessi alla cattura del pedone b2 che non a caso negli scacchi viene chiamato pedone avvelenato naturalmente Nakamura non aveva interesse tutto questo va bene tenere complicato il gioco ma non andare a perdere in questo modo quindi ha semplicemente arroccato corto qui Irina Crash ha cercato di convincere Anand che la mossa g4 fosse una mossa nello spirito della posizione Anand non era molto convinto anche se poi alla fine i due scherzosamente hanno trovato una variante di vittoria del bianco che merita di essere vista perché simpatica g4 di nuovo donna b6 del nero naturalmente non c'era nessuna necessità che il nero andasse di nuovo a caccia di pedoni ma se il nero lo facesse in questo momento la torre c1 sembra sotto attacco sembra che il bianco debba salvarla in verità il bianco non ne ha bisogno gioca g per f6 permettendo al nero di catturare la torre in c1 ma andando con cavallo d1 a eliminare ogni scacco e naturalmente l'attacco sulla colonna g e sulle case scure è fatale e in questa posizione il bianco va a vincere il computer prova a resistere con la mossa cavallo d4 naturalmente e per d4 non è possibile perché il nero guadagnerebbe la donna ma dopo torre g1 di nuovo ignorando quindi il cavallo il bianco ha un attacco vincente di nuovo non c'è necessità per giocare tutto questo il bianco arroccato torre c8 e la posizione qui è andata rapidamente a scivolare verso la parità con i due giocatori che hanno cambiato le torri sulla colonna c hanno poi rapidamente cambiato le donne e in questa posizione si è arrivati rapidamente alla patta con il bianco che ha oscillato con l'alfiere tra d3 e b1 e il nero che ha oscillato con il cavallo tra c6 e b4 quindi una mossa una partita diciamo non particolarmente emozionante l'ultima partita della giornata invece è stata molto più diciamo interessante quella tra gucash e nepomniaci allora la partita è iniziata con una sorta di catalana quindi dopo alfiere g2 il nero però ha giocato sorprendentemente c5 una variante poco giocata qui il nero tipicamente va a prendere scusate va a prendere in c4 oppure come abbiamo visto nel video di ieri va a giocare alfiere b4 scacco sfidando il bianco a mettere l'alfiere in d2 e poi ritirando l'alfiere in e7 con l'idea che l'alfiere in d2 che apparentemente sembra una mossa regalata in verità è una mossa che fa più male che bene al bianco perché l'alfiere in d2 sta piuttosto male e toglie semmai la casa naturale di sviluppo al cavallo semmai se qui il nero volesse proprio giocare c5 allora dovrebbe giocarlo alla mossa precedente dove viene considerato un buon antidoto di questa variante perché? perché rientrando in uno schema tipo benoni con il bianco che gioca a d5 ora tipicamente nelle varianti nella benoni il fianchetto del bianco non è considerata la variante migliore per il bianco quindi come dire ora che il bianco si è compromesso con il fianchetto il nero può pensare di rientrare in una specie di benoni dove comunque il fianchetto non è appunto particolarmente emozionante perché l'alfiere va a cozzare contro il suo stesso pedone qui però insomma entriamo in finezze di apertura che non ci diciamo interessano al momento scusate ecco qua allora dopo alfiere g2 quindi c5 andando rapidamente a sciogliere la posizione sembra che quindi nepo omniaci voglia ottenere una parità attraverso veloci cambi di pezzi al centro qui la teoria consiglia e per d5 che però darebbe probabilmente al bianco qualcosa per cui giocare cioè il pedone d5 che rimarrà probabilmente isolato invece nepo gioca semplicemente cavallo prende d5 accettando la posizione leggermente inferiore ma fluida e solida quindi senza nessuna debolezza cavallo f3 presa in d4 alfiere c5 naturalmente il pedone d4 può essere controllato ma l'alfiere diciamo pensa di avere un buon futuro su questa diagonale onestamente è un pochino questo diciamo ottimistico perché dopo l'arrocco corto qui dopo cavallo b3 l'alfiere è stato ritirato in e7 ora qui in questa posizione il bianco oltre a cavallo b3 aveva a disposizione altre mosse in particolare Anand ha consigliato anche cavallo c3 nonostante il bianco accetti questa piccola debolezza del pedone c3 perché ora ottiene anche la colonna b per fare da paio diciamo all'alfiere sulla lunga diagonale quindi una coppiata che può dare molto fastidio al nero nel lungo termine oppure se proprio il bianco vuole giocare cavallo c3 senza permettere il pedone isolato allora può giocare cavallo b5 aspettare che il nero giochi a6 e poi ritirare il cavallo in c3 per poter catturare di nuovo in c3 senza procurarsi il pedone isolato invece Gukesh ha giocato cavallo b3 ha cacciato via l'alfiere perché l'alfiere non è rimasto in b6 ora questa è una domanda diciamo che è stata opposta allo stesso Anand che non è riuscito a rispondere in modo molto convincente in fondo anche l'alfiere b6 è una mossa che va bene però probabilmente l'idea diciamo che è emersa dalla discussione che sta dopo un eventuale qui alfiere g5 o alfiere f4 se il bianco poi riuscisse a giocare e3 il nero risulterebbe l'alfiere nero risulterebbe pochino chiuso su questa diagonale quindi come dire l'alfiere e7 è un approccio più classico che porta l'alfiere a poter essere sviluppato in f6 come dire comporta meno rischi per il nero qui sorprendentemente il bianco ha scelto invece di diciamo ormai capendo che non c'era più grande vantaggio di cui discutere ha deciso di rendere più tagliente la posizione andando a spingere in e4 ora questa mossa sembra un pochino antiposizionale perché chiude l'alfiere che pure il bianco ha scelto di fianchettare quindi di porre con la massima attività in questo momento l'alfiere è estremamente potente sul lungo diagonale con e4 il suo ruolo viene in qualche modo limitato e il bianco si procura anche delle possibili debolezze però come dire Gukesh cercava ancora di cavare un vantaggio da questa posizione cavallo b4 cavallo c3 cavallo c6 i due colori completano lo sviluppo e dopo l'alfiere e3 il nero qui non ho potuto fare altro che cambiare le donne e poi giocare cavallo e5 mi aspettavo sinceramente più cavallo c2 andando ad attaccare l'alfiere ma poi c'è da dire che qui l'alfiere può il bianco può giocare alfiere c5 cambiando gli alfieri e mantenendo secondo me un fastidioso vantaggio perché il cavallo b7 di nuovo fa il paio con l'alfiere e mette una certa pressione quindi qui secondo me il bianco tiene ancora un certo vantaggio cavallo e5 con l'idea cavallo c4 è stata invece la mossa giocata da demoniaci a3 si caccia via il cavallo quindi il vantaggio di cavallo e5 tra l'altro è di liberare la casa c6 per il rientro dell'altro cavallo cavallo e5 a3 cavallo c6 e qui il bianco ha giocato l'aggressiva mossa f4 il nero gioca cavallo c4 attaccando il pedone b2 e il bianco ritira l'alfiere ora come giudicare questa posizione attenzione vi dico la verità il bianco oggettivamente ha ancora un piccolo vantaggio ha la coppia degli alfieri ha indubbiamente un maggiore controllo del centro controlla la colonna d non si può negare che il bianco qualcosa abbia di vantaggio però io tendo in queste posizioni a non lasciarmi troppo diciamo influenzare perché comunque i pedoni avanzati introducono anche delle debolezze il nero ha una posizione molto solida e secondo me il nero in questo tipo di posizioni dovrebbe giocare per la spinta e5 che ha vari vantaggi innanzitutto gli permette di consolidare la casa d4 gli permette di dare spazio all'alfiere campo chiaro magari in e6 e in qualche modo gli permette di evitare che il bianco stesso spinga in e5 ridando luce all'alfiere in fianchetto quindi come dire in questa posizione il nero può pattare abbastanza agevolmente a patto di riuscire a giocare la spinta in e5 in effetti la prossima mossa di Nepognaci sembra proprio diretta alla preparazione della spinta in e5 gioca f6 non è la mossa più precisa e qui adesso infatti in questa partita viene una cosa molto interessante che Nepo da questo momento in poi gioca molto rapidamente ha più di un'ora sull'orologio ma sembra quasi non interessarsene giocherà le prossime 25 mosse in modo molto rapido mentre Gukesh che già aveva utilizzato molto il suo tempo di apertura finirà per arrivare alla fine della quarantesima mossa veramente con gli sgozzoli con poche decine di secondi quindi che cosa succede? che Nepo naturalmente giocando così rapidamente non riesce a giocare con la massima precisione commette delle imprecisioni la sua idea il suo approccio è come dire queste imprecisioni probabilmente non saranno così gravi e tenermi il vantaggio di tempo mi permetterà poi al momento opportuno nelle posizioni critiche che dovessero presentarsi di avere questo tempo a disposizione per risolvere gli eventuali problemi quindi inutile stare qui secondo Nepo a cercare la finezza meglio giocare mosse semplici naturali e poi si vedrà è un approccio rischioso che naturalmente può essere giocato da un giocatore del calibro di Nepo a livelli minori io non lo consiglierei secondo me è molto più importante invece riflettere cercare di capire la natura della posizione e poi dopo giocare le linee più precise per arrivare più rapidamente alla parità vediamo come andrà a finire torre 1 una mossa interessante non tanto perché la torre serva a qualcosa ma perché libera la casa f1 per l'alfiere che finalmente così può attivarsi e cacciar via il cavallo e qui Nepo appunto era una posizione in cui i commentatori in particolare Narodischi comunque un giocatore fortissimo dimostrava di avere grande preoccupazione nella possibilità del nero di arrivare a una completa parità perché tutti i giocatori appunto tutti i commentatori nessuno riusciva a vedere un modo con cui il nero potesse risolvere il suo grave problema ovvero quello della torre in A8 tagliata fuori dal gioco come tutti hanno giustamente sottolineato se il nero avesse la torre in D8 qui starebbe tranquillamente bene invece la torre in A8 ha il grosso problema che non può saltare sopra i propri pezzi e quindi l'alfiere attualmente non sa dove muoversi quindi come dire il nero è congestionato cosa può fare? allora l'immediata torre in D8 non funziona completamente perché dopo alfiere F1 attaccando il cavallo il nero può si cambiare in D1 ma dopo cavallo D6 e qui c'è anche la mossa alfiere E3 e come dire il bianco completa il suo sviluppo e il nero ha ancora il problema di poter far uscire la sua torre A6 è la mossa consigliata dal computer preparando B5 è una mossa rischiosa che però ha un'idea molto precisa qual è? che dopo alfiere F1 il nero quindi non ritira il cavallo ma lo difende con B5 e qui la presa in C4 seguita da cavallo D2 per attaccare il pedone non funziona a causa di cavallo A5 che lo va a difendere mentre se il bianco gioca l'immediata E5 quindi senza aspettare che sia il nero a farlo allora torre B8 salva il nero perché dopo E per F6 qui il nero ha la scelta tra G per F6 o alfiere per F6 è vero che il bianco continua ad avere una certa pressione sulle colonne centrali però una volta che il nero gioca alfiere per F6 diciamo tutto sommato il controgioco che viene a creare sulla lunga diagonale gli dovrebbe dare un certo vantaggio il pedone F7 può essere difeso alla bisogna anche del re invece cosa fa Nepo gioca subito torre B8 quindi non A6 eseguita da B5 ma subito torre B8 che però è un problema tattico perché dopo alfiere per F1 B5 non è possibile perché ora il bianco può giocare cavallo prende in B5 seguita dal fiere C4 che contemporaneamente attacca la torre difende il cavallo e minaccia anche il pedone in E6 quindi proprio per questo motivo dopo alfiere F1 il nero è costretto a ritirare il cavallo il cavallo in D6 quindi come dire l'utilità di torre B8 è stata decisamente meno di quella che avrebbe avuto il nero se avesse giocato a 6 B5 cavallo D6 e qui il bianco dopo lunga riflessione ha giocato cavallo B5 che a non vedere del vero è stata proposta da Narodischi praticamente istantaneamente e quindi questo mi fa mi fa diciamo fermarmi un attimo su questo punto perché cavallo B5 perché il bianco deve sentire la necessità di cambiare un pezzo apparentemente quando si è in vantaggio diciamo cambiare i pezzi deve servire a qualcosa altrimenti è soltanto una liquidazione dei pezzi in gioco perché il bianco qui gioca cavallo B5 perché chiaramente il cavallo in D6 è l'elemento diciamo cruciale della difesa del nero il cavallo in D6 chiude al momento la colonna D permetterebbe al nero di portare i suoi pezzi in gioco in quanto la casa E5 al momento il bianco non può spingere in E5 perché il nero la controlla due volte quindi come dire il cavallo D6 è cruciale per la difesa del nero va rimosso va rimosso cavallo B5 qui il nero secondo il computer dovrebbe giocare torre D8 aspettare che sia il bianco a catturare in D6 magari cambiare tutto e in questo modo diciamo riuscire a a cambiare più pezzi possibile invece Nepomniaci di nuovo con un pochino di sciatteria dovuto appunto alla velocità con cui stava cercando di giocare va a prendere in B5 e poi avvicina il re in F7 appunto una mossa che non va nel cuore della posizione una mossa genericamente utile ma un pochino da partita lampo voglio dire il nero dovrebbe cercare qui di fare qualcosa di più per pareggiare il gioco alfiere E3 andando ad attaccare il pedone il nero gioca A6 il bianco ritira l'alfiere B5 questa adesso avanzata molto aggressiva ha il problema di creare delle debolezze sulle case scure debolezze che il bianco sfrutta subito con cavallo C5 e qui le cose iniziano davvero a mettersi male l'immediata E5 non risolve perché il bianco può giocare B4 andando a consolidare il cavallo naturalmente non F5 che permetterebbe al nero di rispondere con cavallo D4 e dopo alfiere D4 e per D4 il bianco non può prendere in D4 perché naturalmente lascerebbe il cavallo in presa quindi dopo E5 ora il bianco passa in grande vantaggio con B4 torre D8 cercando quindi di liquidare i pezzi sulla colonna B ha il problema di permettere al bianco di giocare torre D8 e poi torre C1 quindi il bianco non è più interessato alla colonna D ma è interessato adesso alla colonna C su cui il nero si è indebolito finché il nero aveva il pedone in B7 e controllava la casa C6 ora il nero ha avanzato i pedoni la colonna C è diventata vulnerabile alfiere B6 l'idea del nero a questo punto sembra proprio quella di cedere un alfiere pur di liberarsi del fastidioso cavallo così è il nero cede l'alfiere ecco qui di nuovo Nepomniaci con una certa sciatteria sembra pensare ok l'importante è liberarmi così giocare mosse rapide e non compromettenti ma in verità cedere l'alfiere è un elemento estremamente importante che dà al bianco grandi chance di vantaggio in che modo alfiere B7 adesso il nero è pronto a giocare torre D8 il bianco gioca alfiere B6 attaccando la torre torre D7 sembra apparentemente a questo punto tutto sembra sotto controllo ma proprio quando tutto sembra sotto controllo qui il bianco ha la mossa vincente abbiamo fatto questa lunga cavalcata il nero ha giocato in modo molto sciatto mi sento di dire così perché veramente cedere l'alfiere campo scuro in questo modo è sorprendente per un giocatore del calibro di Nepo e in effetti per fortuna la diciamo la la coerenza scacchistica giudica dimostra nei fatti che le scelte eseguite fin qui da Nepo sono veramente inferiori perché qui il bianco ha una variante vincente a disposizione ammetto che non è facile però come dire sono convinto che Gukesh se avesse un pochino più creduto nella potenzialità della sua posizione magari avesse avuto un pochino più di tempo a disposizione lui stesso perché Nepo un pochino approfittava del fatto che l'avversario era a corto di tempo per giocare in modo così rapido sono sicuro che qui avrebbe potuto intuire che qualcosa c'era qui come vince il bianco inizia iniziando con la mossa a4 ora fino a qui l'idea ci può stare perché prima o poi il bianco se intende vincere deve mettere sotto pressione i pedoni del nero sul lato di donna bene a4 l'idea però qual è che se il nero prende in a4 il bianco ha a disposizione alfiere c4 andando a minacciare la lunga diagonale naturalmente minacciando tra le altre cose non solo a mossa come f5 o diciamo altre un'incursione sulla lunga diagonale cosa può fare il nero beh il nero se prova a rimuovere il re semplicemente si becca alfiere c5 deve tornare indietro e qui arriva f5 e buonanotte e qui già dimostra quanto sia utile avere un alfiere campo scuro a cui il nero non può opporre niente il computer prova a difendersi con cavallo d8 andando a difendere quindi il il pedone in e6 bene e qui ora f5 alfiere e7 non risolve niente perché se il bianco prende in e5 in e6 adesso il nero può riprendere in e6 ma il bianco ha a disposizione una mossa davvero incredibile incredibile non ho altre parole qual è la mossa a disposizione del bianco per vincere la mossa b4 voi direte come b4 il nero va a prendere anpassan a che cosa è servita questa mossa perché il bianco ha ceduto un pedone per semplicemente ritirare l'alfiere da c4 a b3 l'idea qual è è che ora il bianco imparabili quali sono le minacce una è alfiere prende in e8 in d8 seguita da torre c7 e scacco andando a guadagnare l'alfiere questa è una prima mossa mettiamo il nero giochi h6 prende in d8 torre c7 e scacco e poi si guadagna l'alfiere prima minaccia seconda minaccia è quella che se il nero a questo punto gioca semplicemente cavallo c6 ora alfiere a4 va a guadagnare il cavallo perché perché dopo torre d6 di nuovo l'alfiere camposcuro dimostra la sua potenza e gioca alfiere e7 andando ad attaccare la torre la torre si ritira e il bianco va a guadagnare l'alfiere in c6 molto bene quindi non so torre d7 alfiere c6 e naturalmente se torre c7 apparentemente il nero guadagna l'alfiere inchiodato ma arriva alfiere e8 scacco e il bianco guadagna la torre in c7 lasciata in presa infine ultima mossa naturalmente da considerare se il nero a questo punto gioca re e8 per andare a difendere il cavallo arriva alfiere a4 e guadagna la qualità e la partita e ora qui si capisce perché il bianco abbia avuto bisogno per far funzionare questa variante del fatto di avere l'alfiere in b3 e non in c4 perché dopo re e8 se il bianco avesse l'alfiere in c4 non potrebbe giocare alfiere b5 che sarebbe controllato dal nero mentre qui può giocare alfiere a4 una variante davvero difficilissima però diciamo magari piano piano ci si poteva arrivare di sicuro a4 qui era nello spirito della variante invece il bianco qui cosa ha fatto ha cambiato torre d1 e ha sciupato gran parte del suo vantaggio non solo diciamo rapidamente qui ha giocato a4 che era sì nello spirito dell'opposizione ma nepo ha risposto e5 dando finalmente spazio al suo alfiere e qui gucash ancora a corto di tempo ha giocato ha perso diciamo l'ultima piccola goccia di vantaggio andando a prendere in b5 diciamo questo cambio naturalmente aiuta soltanto le difese del nero quando c'è una tensione come tra questi pedoni il lato in vantaggio in questo caso il bianco non dovrebbe avere interesse a sciogliere questa tensione a meno che non guadagni qualcosa immediatamente qui non si guadagna niente quindi andare a cambiare andare a fare questo cambio non può che favorire il nero f5 ultima chance del bianco naturalmente non si può giocare g5 perché il bianco andrebbe a catturare in h5 con scacco quindi nepo ha semplicemente rimosso il re ha la sua idea in questa variante di andare a creare una fortezza perché apparentemente il bianco può penetrare con il suo re e potrebbe essere pericoloso ma se il nero riesce a impiantare una fortezza naturalmente non rischia niente qui dopo re d2 l'idea di nepo era di giocare h4 naturalmente il bianco prova a evitare la rovina dei suoi pedoni sull'ala di re ma ora qui arriva g5 i pedoni sono tutti bloccati e anche sull'ala di re quindi non c'è modo di fermarli alfiere e2 andando ad attaccare il pedone alfiere a6 difende il pedone e come vedete il re bianco non ha case di accesso da nessuna parte l'idea della fortezza arriverà lo stesso perché il bianco prende in g6 alfiere g4 puntando a cambiare gli alfieri alfiere c2 alfiere a6 i due giocatori hanno oscillato ancora un pochino ma dopo re g6 è chiaro ormai che il bianco non ha modo di penetrare nella posizione del nero anzi il nero tiene il pedone b3 sotto l'attacco e quindi come dire la posizione non può che finire pari bene una lunga cavalcata anche quest'oggi per vedere tutte e quattro le partite diciamo abbiamo visto diciamo la più interessante che è stata la vittoria di pragananda su vidit di nero il match del giorno diciamo secondo le aspettative quello tra Firucia e Caruana che è stato comunque ancora molto interessante Abasov che ha giocato in maniera piuttosto scialba e senza ambizione contro Nakamura che non ha potuto fare niente contro la sua variante di cambio della slava e poi abbiamo visto Gukesh Nepomniaci che è stata una partita in cui Nepo ha provato anche egli a pattare attraverso un gioco di cambi e di semplificazioni però abbiamo visto che ha rischiato davvero tanto se Gukesh avesse individuato nel finale che si è venuto a creare la variante vincente che davvero meritava di essere analizzata e scoperta grazie ovviamente all'aiuto del computer grazie a voi per avermi seguito fino a qui e per continuare a vedere insieme a me questi recap questi aggiornamenti del torneo dei candidati che è in corso che sono veramente interessanti spero che così sia anche per voi a presto grazie ciao